Bella ragazzi, qua è Ghiotto, nuovo video che sto registrando di mercoledì sera, voi lo vedrete giovedì, lo state vedendo di giovedì pomeriggio in cui vi voglio raccontare un po' la mia drammatica esperienza con l'alluvione che ha colpito in particolare, sì, diciamo solamente la Liguria e nello specifico un paio di paesi, due tre paesi, veramente è stata una cosa circoscritta ma veramente devastante quasi senza precedenti, ci fu nel 92 una grande alluvione, io non ero ancora nato chi mi segue su Instagram già sa più o meno cosa è successo, ha visto delle immagini vi metterò qualche immagine in questo video ma meno possibili perché non è mio scopo questo video non è fatto a scopo di farsi compatire, di far vedere, di ingrandire la cosa anzi, io metterò meno immagini possibili soprattutto per rispetto con la gente che veramente ha perso tutto sta veramente piangendo, perché vi spiego, non è successo qua a casa mia dove abito io, ok, dove ho il domicilio ma nella casa che era di mia mamma, perché mia mamma è di Pontivrea, vabbè il paese si può dire io abito a mezz'ora da Pontivrea ed è la casa che era poi dei miei nonni, no, che adesso vabbè non ci sono più da 11 anni e questa casa comunque ha un significato importante che forse io non ho mai capito che questo evento ha fatto sì che io l'ho capito, ok, il significato che ha questa casa per me, soprattutto poi per mia mamma in particolare, perché suo papà comunque se l'è costruita scusate, se l'è costruita da solo rimboccandosi le maniche scusate, non è mia intenzione, assolutamente piange e io in questi anni non ho l'ho trascurata questa casa, anzi io dicevo col senno di poi ho anche detto vedi, se l'avessimo venduta non avremmo questo problema, no, di andare a pulire dell'alluvione, di sguazzare nel fango, però mia mamma non l'ha mai voluto fare perché appunto per lei ha un significato importante questa casa qua e quindi anche per me dovrebbe essere comunque ecco, è successo questa cosa qua, più di un metro d'acqua in casa, l'avete visto e stiamo pulendo tutto, io oggi sono andato, cioè oggi io sto parlo come se fosse giovedì quando state vedendo il video sono andato a lavorare, ho preso due giorni di ferie e appunto per poter pulire, perché si deve agire subito quando accade perché sennò poi il fango secco e tutto, già abbiamo dato una bella sgrossata una bella pulita, poi ovvio per far sì che la casa sia perfetta ci vuole un bel po' di tempo ok? E niente, ringrazio comunque amici, amici miei, amici di mia mamma o anche persone che erano più in difficoltà di noi perché loro ci abitano lì, noi no, quindi sì bisogna pulire ma tanto noi siamo qua tranquilli nel pulito, invece loro ci abitano e credetemi che per rimettere a posto una casa in cui ci abiti in quelle condizioni lì non so se bastano due mesi per far sì che sia di nuovo un gioiellino, no, nel senso poi che ci si può vivere magari una settimana però ragazzi fidatevi che c'è veramente da piangere e ringrazio comunque la comunità in generale di Pontimbria che io trovo sempre fantastica è proprio un paese di una volta in cui ti aiuti, abbiamo anche scherzato, riso, abbiamo lavorato col sorriso cioè per me sono stati due giorni fantastici questi qua, dico la verità, nonostante il dramma sicuramente e niente, quindi io penso che il destino mi abbia messo incontro a questo evento perché io appunto ho sbagliato in questi anni a trascurare questa casa anzi a considerarla quasi un peso e invece chissà, adesso d'ora in poi magari questa casa la sfrutterò ok, quindi magari anche con gli amici ci si può andare a fare qualcosa perché comunque ha un significato importante, ok e niente, io appunto auguro che cioè ritorni tutto a posto, cioè che Pontimbria si possa rialzare al di là di me che poi io sono qua a casa nel pulito tranquillo, ripeto, però adesso vabbè si due giorni lavoro quindi non andrò, perché comunque il più grosso l'abbiamo fatto poi certo bisogna pulire, però il più grosso il fango, le cose l'abbiamo tolto quasi tutto praticamente poi non è solo la casa, c'è la cantina, c'è la stalla, c'è il magazzino quindi poi del sabato e domenica andremo a dare ancora una pulita, ci sarà tempo comunque il più grosso l'abbiamo fatto e niente ragazzi, io più che altro ecco auguro che tutto torni a posto piano piano, che il paese si rialzi stavolta è stata una batosta veramente grande ragazzi non so, avete visto i video, cercateli cercate Pontimbria alluvione come un paese che era un fiume un paese che era un fiume c'è una cosa incredibile incredibile gente, io ho parlato con persone che mi hanno detto io sono venuto ad abitare qua un anno fa ho fatto la più grande cazzata della mia vita è chiaro, anche perché con il clima in cui andiamo incontro ragazzi c'è da mettersi le mani nei capelli cioè io ve lo dico se dovete comprare una casa più lontano possibile da un corso d'acqua perché se voi vedeste la distanza che c'è tra il fiume e per esempio la mia casa è pazzesco cioè il fiume, il fiume Erro che è un torrente non è neanche un fiume non è considerato neanche un fiume ci saranno 20 metri di altezza io ti sto dicendo cioè 20 metri di altezza cioè il fiume vuol dire che è salito 20 metri cioè ragazzi è una cosa che se uno non lo sa non sa che può succedere perché è già successo nel 92 poi è una cosa che per adesso succede ogni 30 anni secondo me adesso succederà anche ogni 5 anni non voglio gufarla ma purtroppo la realtà è così se non si interviene perché il clima noi l'abbiamo la terra la stiamo devastando noi umani e purtroppo si sta andando verso un clima tropicale dalle nostre parti quindi non piove per mesi e poi alluvioni e succede un casino quindi si deve intervenire nel senso pulire i fiumi costruire in maniera corretta è il problema che adesso se tu vai a pulire in un fiume ti cazziano no? perché magari rovini la fauna rovini la flora tutte quelle cazzate scusatemi perché poi quando ti viene ti viene l'acqua in casa e meno male che non si è fatto male a nessuno perché ripeto lì quando ti entra un metro e mezzo d'acqua in casa non è che ti entra come si apre il rubinetto vuol dire che un'onda ti travolge è chiaro quindi c'è gente che si è aggrappata a lampa d'aria e si è salvata per miracolo quindi si deve prevenire queste cose non è possibile che noi ci troviamo perché in Italia ogni anno succede cioè adesso è successo qua l'anno prossimo succede in Piemonte due anni tra due anni succede in Sicilia quindi non è possibile ecco perché veramente c'è c'è da piangere c'è una veramente ha costruito magari una casa come ha fatto mio nonno da solo lavorando come un mulo rimbocandosi le maniche nessuno l'ha aiutato e poi in un amen se ne va via tutto ok e niente ragazzi io vabbè purtroppo ho fatto un video che non si è capito un cazzo ok perché purtroppo mi sono mi sono emozionato però è andata così dai un video di getto in questo periodo qua anche sosta nazionali ho voglia di tornare a fare un po' questi video anche senza tagli senza niente però video in cui si vede più più la persona forse non lo so che lo youtube ok signori vi saluto vi ringrazio e sempre forza Lazio comunque ciao ciao